meno male non me ne frega nulla prestito con obbligo dal Monza non mi interessa video di due mesi fa su Carlos Augusto è un grande giocatore l'esterno perfetto per Inzaghi perché salta l'uomo è veloce a personalità a fisico crea superiorità numerica fortissimo tecnicamente è un grande giocatore prestito con obbligo dal Monza lo sappiamo il nostro orticello è quello lì prestiti con obbligo e non pagherà lui ma va bene Carlos Augusto è un calciatore che darà soddisfazione ai tifosi dell'Inter vedrete mi piace non poteva mai prendere l'Inter soprattutto per le possibilità che ha un esterno più forte di Carlos Augusto due mesi fa video ho spiegato tutte le caratteristiche come lo vedo io cosa può fare secondo me ma è un calciatore ottimo Carlos Augusto è un calciatore ottimo e tra l'altro aveva tante richieste prezzo abbordabilissimo 13 milioni poi ragazzi su Samarzic perché mi sono incazzato tanto perché Turam lo sapevate che mi piaceva perché io sono due anni che parlo di Turam non è un nove sta studiando da nove ma è comunque una seconda punta può migliorare può provare può cercare a giocare da nove ma l'acquisto che quest'anno mi aveva eccitato quel cazzo l'ho visto io l'ho visto andare a fare le visite era Samarzic quindi io spero ci sono 40.000 versioni ora su Samarzic quello quel lato spero che comunque venga riuscita la situazione anche se poi bisogna capire quanto è importante questo Samarzic Samarzic nella testa di Zaghi anche perché guarda addirittura Ludinese in questi minuti dice ha detto al giocatore di accettare l'Inter quindi per un lato dice Ludinese ha chiesto al ragazzo di accettare l'Inter tra le condizioni concordate perché non intendere prendere in considerazione altre soluzioni portate Samarzic prestito con obbligo prestito con obbligo udinese Monza Bologna è così ragazzi è così ritorniamo a quello dicevo la settimana scorsa è così non bisogna avere tanto la puzzettina sotto il naso però se mi fai annusare un giocatore poi dopo non me lo porti più mi fai fare le vise mi fai girare le scatole bisogna anche dire le cose positive l'Inter ha preso il più forte preparatore dei portieri in assoluto dal Paris Saint Germain che si chiama Gianluca Spinelli ha un curriculum da manicomio questo è fortissimo ogni atleta ad ogni personalità che si trova davanti ad ogni istruttore perché poi l'allenatore è un istruttore il preparatore atletico è un istruttore rispondi in maniera diversa non rispondi in maniera uguale a tutti no soprattutto nel calcio quindi Spinelli secondo me lavorerà tanto su Audero lo farà migliorare Audero diventerà titolare dell'Inter anche perché con la difesa di posizionamento che abbiamo noi tra l'altro Augusto può giocare anche il braccetto attenzione per chi ha la velocità per scappare all'indietro è un esterno tutta fascia fortissimo ma all'occorrenza lui ha già giocato in passato può giocare anche il braccetto di sinistra attenzione non è male sull'uomo normale è un cavallo da fascia forte chiaramente rossa fa assist molto bravo però all'occorrenza abbiamo anche il braccetto quindi il signor Spinelli che a livello di preparatori dei portieri il numero uno in assoluto ha un curriculum come dicevo da manicomio può far migliorare tanto Audero perché i ragazzi ora qui ci volevano fare stappare la bottiglia perché era andato via Onana ed era arrivato Sommer 27 anni e 835 sto parlando di un portiere che a me piace ma all'Inter avendo una difesa di posizionamento manca un portiere che esce quindi Audero innanzitutto è un metro e più di un metro e 90 e poi un portiere che esce quindi con Spinelli lui può migliorare e diventare titolare Gianluca Spinelli è preparatore dei portieri più forte che c'è sicuramente in Italia ma è tra più bravi in Europa e lo abbiamo preso dal Paris Saint Germain come lo abbiamo preso non lo so come hanno fatto a prenderlo non lo so quanto lo pagano non lo so so di per certo perché me l'hanno detto che è il numero uno in assoluto per preparatore dei portieri ciao Inter